Disposta alla cattura dell'esemplare di cervo, giovane e di notevoli dimensioni, che nelle ultime settimane si è girato nella zona pep di Popoli, destando curiosità tra gli assiti frequentatori. Con apposita ordinanza il sindaco Dino Santoro ha dato mandarlo di provvedere alla cattura dell'esemplare per la salvaguardia e la sicurezza della salute dei cittadini, ma anche per l'ingolumità del cervo stesso, che nell'ultima occasione è stato avvicinato e aggredito da un cane. La cattura sarà effettuata con azione sinergica tra polizia municipale e carabinieri forestali, con l'ausilio del servizio veterinario ASL, che provvederà con i propri mezzi a narcotizzare il cervo per poi procedere alla cattura e trasferimento presso il locale centro per il recupero degli animali selvatici in località Iampianezza, gestito dal reparto biodiversità dei carabinieri forestali. Il provvedimento si è reso necessario perché l'avvistamento del cervo provoca in alcune persone panico e potrebbe dare origine ad autonome iniziative anche illegali da parte dei privati. Alcuni cittadini, incuriositi dall'animale, si avvicinano pericolosamente allo stesso. La frequenza degli avvistamenti in orario diurno e notturno, secondo il primo cittadino, costituisce fonte di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l'ingolumità di persone e cose.